Questa mia azienda non sarebbe pronta com'è a espandersi verso nuovi mercati, verso l'est, verso l'Europa liberata dal comunismo, se non avesse, oltre al prodotto, dei valori. Dicono che siamo sottocapitalizzati. Entriamo in borsa, ci facciamo sovrastimare il prezzo delle nostre azioni e poi i capitali arriveranno dal mercato. Questo è quello che mi è sempre piaciuto di te. Tu non porti mai problemi, o se porti un problema, porti anche la soluzione. Dunga vita alla Leda! Ma così ci trascinerà a fondo. Bisognerebbe chiudere baracca laggiù. Quindi si ripresenta, almeno temporaneamente, il problema della liquidità. E lei deve rivolgersi a un primo. Ma primo viene solo Dio. O chi ne fa le veci. Non abbiamo più amici. Ma come? Sono anni che diamo soldi a destra, a sinistra, ai partiti, ai giornali. Anche le banche americane ci siamo messi a fare donazioni. Allora dove li troviamo questi soldi? Li rubiamo? Facciamo una rapina? Inventiamoceli. Nessuno ha la competenza e il coraggio di controllarci. Allora siamo saldi, Ernestino. Questa volta mio zio va a fondo veramente. Tu con lui se non ti metti da parte qualcosa. Come mai continuate a indebitarvi quando dai bilanci risulta che avete in cassa quasi 4 miliardi di euro? Leda, buonasera. Fate sparire tutto. Presidente. Fate sparire tutte le carte.